...e poi il suono insieme a J-AX, sei uno schifo, Gregorio dal Billionaire. Bravo, lì devi andare a Billionaire. Prima di parlare di persone come J-AX, sciacquati la bocca, coglione. Dovesti conoscerlo. Prima di parlare della gente, impara a conoscerla, stronzo. E vai a Billionaire, insieme a tutte quelle gnocche troie, che poi non te la danno neanche se non pachi, coglione. Fan culo, fan culo, fan culo, fan culo.